canva è una piattaforma che ci consente di condividere il nostro lavoro con altre persone e di collaborare in vari modi tanto per cominciare esiste uno specifico piano di abbonamento che si chiama canva per i team lo possiamo vedere andando ai piani e i prezzi eccolo qui che ci consente di condividere l'abbonamento canva e tutte le risorse di canva con un gruppo di persone il costo nel momento in cui sto registrando è di 139 euro per i team che vanno da 2 a 5 persone quindi fino a 5 il costo è questo da 6 persone poi il costo può variare a seconda del numero di persone che fanno parte dei team tuttavia anche con l'account gratuito quindi anche senza fare questo abbonamento per i team quindi con canva gratis è possibile collaborare con altre persone e vediamo come si fa prendiamo uno dei nostri progetti prendiamo un progetto qualsiasi ad esempio questo per invitare un'altra persona a collaborare a questo progetto possiamo cliccare su questo pulsante in alto condividi ora saltando questa prima opzione che serve per i team possiamo però condividere il nostro progetto con chiunque noi vogliamo e come si fa dobbiamo scegliere questo link di collaborazione scegliere la seconda opzione quindi non solo tu puoi effettuare l'accesso ma chiunque abbia il link e dopodiché qui possiamo modificare il ruolo di chi riceverà questo link e quindi possiamo fare in maniera tale che chiunque abbia il link possa solo visualizzare il documento ed avremo un link specifico da copiare oppure possa anche commentare e quindi un altro link diverso vedete il modifica il link aggiornato oppure se vogliamo dare anche la possibilità di modificare il documento al nostro collaboratore anche se lui non ha l'accesso a canva possiamo farlo utilizzando quest'altra opzione così avremo un link che possiamo condividere con chiunque copiarlo e inviarlo a chi vogliamo con il mezzo che preferiamo per email messaggio ciò che vogliamo una volta terminata la collaborazione possiamo scaricare il progetto nel formato che preferiamo come abbiamo già visto nelle precedenti lezioni ci sono poi anche delle altre modalità di condivisione che possiamo trovare cliccando qui su questi tre puntini altro ed ecco che abbiamo di nuovo il link per la sola visualizzazione il il link per guardare il documento ma abbiamo anche delle altre opzioni ad esempio possiamo addirittura creare un qr code per visualizzare il il nostro progetto così abbiamo trasformato il nostro progetto in un codice qr questa è l'anteprima è da questo codice si accede al progetto inoltre potremmo incorporare questo progetto in una pagina web oppure possiamo anche pubblicarlo direttamente sui social e qui abbiamo i pulsanti per farlo su instagram su facebook twitter su linkedin addirittura gli utenti pro hanno la possibilità di pianificare la pubblicazione su sui social e quindi di stabilire esattamente quando dopo aver selezionato il canale selezionare ok dovrei connettermi a facebook non lo faccio per semplicità ma selezionare quando verrà pubblicato questo preciso contenuto ok come potete vedere le opzioni di condivisione sono tante quindi anche io vi invito a collaborare con le persone che lavorano con voi su canva e perché no magari se avete dei clienti di fornire ai vostri clienti un link per visualizzare i progetti prima che li abbiate terminati in maniera tale da ricevere i loro feedback quando il progetto è ancora in fase di lavorazione e anche selezionare il canale Grazie a tutti.